Commodore 64 sta riprendendo la temperatura dei componenti Andiamo ad aprire la buchetta della posta Cosa c'abbiamo qua, vediamo Elettronica in, numero di novembre In questo numero che è il 210 spicca come progetto la mia prima CNC Che deve essere molto interessante Poi abbiamo nella categoria top project riscaldatore e induzione da 1000 watt Questo mi sembra di conoscerlo, dopo andiamo a darci un'occhiata Altri articoli interessanti su questo numero sono il concorso Fiscino Contest Al quale ho partecipato anch'io e sono arrivato quarto Qua però si parla del progetto termostato Fiscino che è il terzo concorrente Ecco che a pagina 37 appunto riscaldatore e induzione di Pier Alessandro Aisa Mi sembra di conoscerlo Un articoletto che spiega come realizzare questo oggetto che è un dimostratore Per vedere i concetti dell'industria elettromagnetica, effetto Joule, corretti di Foucault E' un articolo di otto pagine dove c'è un po' di accenno ai grandi scienziati che poi hanno trovato questi fenomeni La descrizione dello schema elettrico Poi c'è qualche indicazione sulla bobina che va a magnetizzare lo ZVS E poi è descritto ovviamente la realizzazione pratica Il principio di funzionamento Con le forme d'onda che abbiamo catturato nell'altro video che avevo dedicato a questo oggetto qui Ecco, poi questa è l'ultima pagina, la pagina finale dove c'è la misura di corrente che circola su il work coil Che ricordiamo essere di circa 100 A Questo oggettino infatti con 48 Volt di alimentazione riesce a erogare 100 A su questa bobina Producendo un campo magnetico di 10 mili Tesla Avendolo scritto io, ovviamente vi consiglio di comprare la rivista, leggervi l'articolo E anche realizzare l'induction heater Perché credo che sia un oggetto veramente utile per lavorare un po' con i campi elettromagnetici E in generale l'induzione elettromagnetica Visto che siamo in tema riviste, facciamo un tuffo nel passato Questa è nuova elettronica del 2011, quindi gennaio-febbraio 2011, anno 246 Questo numero è molto particolare perché abbiamo la bobina di Tesla proposta da una nuova elettronica Che è un oggetto carino, tra l'altro ho già fatto anche un video in passato su questo, dopo vi posto il link Una bobina che oscilla a frequenza abbastanza elevata, perché parliamo di circa 1 MHz Abbastanza compatta Nella stessa rivista c'è anche un articolo che parla della programmazione della porta USB in Java Ne so qualcosa perché all'epoca lo scrissi io Neanche a farlo apposta, nello stesso numero Un altro articolo interessante e collegato agli esperimenti che stiamo facendo in questo periodo Un caricabatterie wireless in grado di trasferire da un trasmettitore a un ricevitore L'energia sufficiente a ricaricare una pila NICD Tra l'altro questo potrebbe essere spunto per vedere con l'induction heater Visto nella rivista precedente Se si riesca a trasferire della potenza a distanza Quanta e in quale misura E con che rendimento soprattutto A pagina 74 si trova il mio articolo Programmare in Java la porta USB Dove si faceva una breve introduzione del Java All'epoca era il 2011 Quindi si davano un po' di concetti Chiave del linguaggio di programmazione Java Come sulla programmazione oggetti E il fatto di poterlo semplicemente portare su qualsiasi tipo di sistema operativo Con l'utilizzo della virtual machine Poi tramite l'utilizzo di una schedina molto semplice Realizzata con un PIC Si faceva un piccolo applicativo Del quale qua avevamo proprio tutto il listato sorgente in Java Che non faceva altro che faceva una comunicazione seriale Fra appunto il PC e questa schedina Al fine di movimentare dei relai e acquisire degli ingressi Quindi il codice sorgente era molto semplice Ed era stato pensato per Imparare diciamo così A maneggiare la porta USB Come COM virtuale Come appunto come porta seriale virtuale In ambiente Java Poi alla fine c'era anche Questo applicativo un pochino più complicato Che avevo chiamato Data Logger Che era un oggetto che sostanzialmente Teneva traccia di misure effettuati da sensori Come sensori di temperatura Sensori di pressione Sensori di umidità E rappresentava in maniera grafica E soprattutto archiviava sul disco fisso Tutte le misure campionate Anche questo applicativo era stato sviluppato in Java E sfruttava ovviamente il pacchetto sulla porta USB seriale Il video di oggi voleva essere uno stimolo A tenersi sempre aggiornati Quindi comprare delle riviste Leggere su internet Cercare degli schemi Perché lo ritengo molto importante Per chi abbia lobby dell'elettronica Personalmente preferisco avere le riviste cartacee Per un discorso forse anche di collezione Perché comunque è carino averle in libreria Comodità Nel senso che mi piace comunque sfogliare la carta Poter scriverci qualcosa sopra Anche se le versioni online Devo ammettere che sono molto pratiche Immediate e comode Per quanto riguarda nuova elettronica Io le ho tutte Dal primo numero del 1969 Fino agli ultimi numeri Di qualche anno fa La cosa che apprezzo molto È poter vedere la tecnologia Di 20 o 30 anni fa E farsi delle considerazioni Rispetto ad adesso Cosa è cambiato In questi anni